salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ci troviamo ancora in compagnia di lui il vicopter falcon sì perché oggi andremo a provarlo nelle sue modalità di volo automatiche proveremo l'active track e poi proveremo la funzione droni quella in cui il drone parte da un soggetto e si allontana salendo e poi proveremo la funzione spiral questa funzione in cui il drone crea una spirale intorno ad un soggetto queste sono le uniche funzioni automatiche che attualmente questo drone per quanto riguarda l'active track lui ha un sistema ibrido nel senso che sia follow me che active track quindi segue sia il radiocomando che il soggetto quindi la telecamera terrà inquadrato il soggetto ma il drone continuerà a seguire comunque il radiocomando che sia un bene che un male perché comunque avendo questo sistema chiamiamolo così doppio il drone dovrebbe rimanere più agganciato al soggetto e avere meno probabilità di perdere appunto il soggetto ma allo stesso tempo lo svantaggio che il radiocomando deve essere sempre con il soggetto quindi non possiamo fare l'active track su un qualcosa in cui il radiocomando non c'è altrimenti non partirà l'active track perché lui sta dove sta il radiocomando quindi è un po' un pro e un contro mentre per quanto riguarda i due voli automatici non hanno regolazioni nel senso che lui parte dal soggetto e crea i due voli automatici quindi non possiamo dirgli la distanza a cui deve andare dal soggetto quindi è preimpostata è di 40 metri non possiamo dirgli praticamente niente lui in automatico parte registra il video e fine questo è quello che possiamo fare attualmente con questi voli automatici però la cosa più fastidiosa sia per quanto riguarda l'active track che per i due voli autonomi è il fatto che abbassa la risoluzione di registrazione dovrebbe essere una cosa momentanea almeno così mi hanno detto il supporto della zero zero robotic perché lui anziché registrare in 4k abbassa la registrazione in questi diciamo tre situazioni quindi active track droni e spiral la bassa a un full hd dovrebbe essere momentaneo però purtroppo ragazzi è così sicuramente è un limite molto fastidioso e per provare l'active track ovviamente la prova la faremo con la mia e bike quindi la faremo in questo campo in cui mi farò seguire con la mia bike dove faccio di solito le prove dell'active track anche con gli altri drone e chi mi segue sul canale le ha viste ultimamente ho fatto tante prove di active track anche con i piccoli droni 249 grammi quindi zino mini pro e film x8 mini poi ho provato ovviamente anche il dj air 2s anche il power x è veramente ultimamente su questo campo ho provato tutti gli attivi tra che facendomi seguire con la bicicletta adesso tocca a lui il vicopter falcon seguirmi sulla bicicletta quindi adesso direi di non perdere altro tempo e iniziamo questa serie di prove sui voli automatici di lui il vicopter falcon andiamo per accedere ai voli automatici ci si può accedere direttamente dalla home quindi vedete track shot andremo a cliccare su quello questo punto per attivarli bisogna decollare quindi andiamo a decollare adesso lui è fermo qua in overing non mi stancherò mai di dirlo un overing pazzesco per attivare la prima funzione automatica è semplicissimo bisogna evidenziare un soggetto vedete che l'ha già evidenziato lui il pallino l'ha messo lui su di me basterà cliccarci sopra quindi ha evidenziato il soggetto qua possiamo andare a scegliere come vi ho detto le due opzioni surge che sarebbe poi una sorta di droni per dj air o spiral quindi proviamo la prima il drone si allontana dal soggetto salendo di quota facciamo start quindi inizia un countdown e vedete che il drone in automatico parte come io ho detto non possiamo regolare assolutamente niente lui arriva ad una distanza di 40 metri dal soggetto dopodiché ritorna verso il soggetto ritorno dal punto di partenza in cui il drone è decollato vedete che adesso sta già ritornando verso di me questa è la prima funzione che proviamo dopodiché proveremo la funzione spira e come vi ho detto il limite che attualmente ha che facendo queste funzioni abbassa la risoluzione video fino a 1080p cioè un full hd perfetto il helicopter falcon è ritornato da dove è partito adesso possiamo provare la funzione spiral per provare la funzione spiral mi sposto un po più in centro al campo quindi prendo la telecamera perfetto faccio venire il drone verso di me ok vedete che il drone continua a tenermi selezionato quindi andrò a cliccare su di me vado a selezionare spiral vado a cliccare start e inizia il countdown anche qua fa una spirale che arriva a una distanza massima di 40 metri dal soggetto adesso tengo d'occhio che non vada a sbattere contra qualche pianta perché comunque siamo in un campo ma è circondato da piante vediamo no dovrebbe andare tutto liscio perfetto vi saluto anche perfetto il drone ha finito il suo volo automatico e vedete che ritorna verso il soggetto cioè io perfetto sta arrivando allora questi sono i due voli automatici disponibili adesso andremo a provare con la bicicletta appunto questa sorta di ibrido tra active track e follow me quindi avremo la telecamera che segue il soggetto e il drone che segue comunque il radiocomando quindi dovrò mettere il radiocomando sulla bicicletta adesso trovo dove fissarlo dove appoggiarlo perlomeno e in questo campo faremo appunto questa prova quindi torniamo alla bicicletta e iniziamo a fare la prova perfetto vado a posizionare il drone dietro di me dietro alla bicicletta ok il vicopter falcon è lì fermo vedete che ha selezionato ancora il soggetto per entrare l'activity tra che basta cliccare in basso qua a sinistra e andiamo a selezionare omni follow quindi vedete che lui ogni tanto rileva due soggetti sia me che la bicicletta in questo caso tengo selezionato me ok vado a cliccare start e in questo momento lui mi ha agganciato vado a mettere il controller dentro qua giusto per fare la prova perfetto ho messo il controller dentro la borsetta della bicicletta e adesso partiamo allora il drone mi sta seguendo sì mi sta seguendo ok quindi adesso giù in discesa sta arrivando si sta arrivando vai vi copter seguimi giù in discesa giù dalla riva adesso mi ammazzo ok giriamo dove è lì vai andiamo sta arrivando adesso è contro sole quindi potrebbe perdermi perché è contro sole vediamo se mi tiene si sta arrivando vai vi copter perfetto curva e dietro ancora ok e arriva si sta arrivando pensavo mi avesse perso invece no si era solo fermato e ha girato su se stesso quindi ok giù dalla riva è sopra di me in questo momento ripartiamo andiamo arrivo vai vi copter ok direi che posso fermarmi perché ho già il fiatone quindi ci siamo ok fermati dove vai ok è arrivato un po lungo è è arrivato un po lungo è sopra di me praticamente vediamo se mi vede allora questa è la funzione in cui lui segue il soggetto poi abbiamo un'altra funzione che è quella in cui lui stando fermo tiene inquadrato il soggetto ruotando solo su se stesso direi che possiamo provare anche quella giusto perché almeno le abbiamo provate tutte me le l'ho dimenticata perché è una funzione che uso pochissimo mi allontano salgo ad un'altezza di 3 metri che è l'altezza minima per cui lui possa fare il suo active track vado a selezionarmi scelgo pivot vado a cliccare start e adesso lui inizia a registrare il video e dovrebbe tenermi inquadrato perfetto vedete che io giro e lui mi segue torno di qua stando fermo sul posto ovviamente però continua a seguirmi perché questa è una funzione in cui stando fermo tiene inquadrato il soggetto ok direi che la fa bene questa funzione anche perché la funzione se vogliamo molto semplice però anche in questo caso abbassa la risoluzione quindi vado a cliccare su stop così interrompe la registrazione video perché comunque le registrazioni video partono in automatico una volta che parte il countdown parte la registrazione video vado a farlo atterrare quindi lo posiziono sul landing vado a farlo atterrare perfetto perfetto atterra sempre in maniera perfetta è uno spettacolo allora ragazzi cosa dire di questo bicopter falcon per i suoi voli automatici secondo me non li fa male anzi secondo me li fa in maniera più che buona ma il suo limite maggiore sicuramente l'abbassare la risoluzione al full hd quindi non mantenere una soluzione 4k come quando si registra un normale video e poi il fatto che nei due voli automatici cioè questa sorta di droni e di spiral non si può regolare assolutamente niente nel senso che la distanza a cui va è quella non si può regolare velocità non si può regolare assolutamente niente fa tutto da solo e tutto preimpostato per quanto riguarda l'abbassamento della risoluzione video dovrebbe essere momentaneo dovrebbe arrivare un aggiornamento in teoria che risolve questo problema speriamo perché comunque anche l'activity tracker secondo me non lo fa per niente male a parte quando mi sono fermato qua che è arrivato un po lungo ma questo lo fa anche il dgi air 2s e quando si inchioda di colpo lui arriva molto molto lungo sul soggetto quindi se lo fa un air 2s non vedo il motivo per cui non lo possa fare il bicopter falcon sebbene è una cosa che magari non va benissimo perché anche inchiodandoci lui dovrebbe rallentare prima invece tendono a essere sempre arrivare lunghi questi droni sull'active track se ci si blocca di colpo però secondo me il soggetto lo tiene bene anche perché ragazzi il sole basso penso che lo vediate anche dalla telecamera che mi sta inquadrando e quindi andare contro sole e mantenere il soggetto non è semplice non è semplice neanche per il dgi air 2s quindi questo drone dgi che comunque si comporta secondo me più che bene per l'active track non lo fa benissimo contro sole soprattutto con un sole così basso va in crisi anche lui quindi direi che si è comportato secondo me più che dignitosamente in una funzione che sicuramente non è il suo punto forte però secondo me lo fa comunque bene ha i sensori anticollisione che gli permettono di non andare a sbattere contro ad un ostacolo non aggira l'ostacolo come fa air 2s però ragazzi secondo me questo drone seppur un drone che ha diciamo dell'innovazione dal punto di vista proprio di concezione è molto vecchio perché comunque come ho sempre detto dal primo video a questo a livello di caratteristiche tecniche è abbastanza obsoleto però nel suo essere obsoleto secondo me le cose che fa le fa anche bene direi quindi non posso dire che quello che fa lo faccia male quindi ragazzi scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate di queste funzioni automatiche di come le ha fatte di come vedete voi appunto lui in queste situazioni come vi ho detto il video si abbassa a 1080p quindi quello è un dato di fatto scrivetemi invece come l'avete visto proprio a livello pratico nel farle quindi ragazzi spero che questo altro video riguardante il helicopter falcon e i suoi voli automatici vi sia piaciuto o interessante se è così ragazzi lasciatevi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novitante prime voli in fpv stampe 3d tantissime cose arrivano su instagram anche lo spoiler di questo active tracker è arrivato tantissime cose arrivano nelle storie di instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test tutorial o novità ciao ragazzi e al prossimo video